Assegno di inclusione, la bella novità per i pensionati. L'assegno di inclusione, sostituto del precedente reddito di cittadinanza, è ora accessibile anche ai pensionati. Questo sostegno economico è progettato per assistere le persone che si trovano in una situazione finanziaria precaria, e i pensionati non fanno eccezione. Tuttavia, per accedere a questo beneficio, è necessario soddisfare specifici requisiti, e seguire una procedura precisa per la richiesta. Iniziamo con il considerare i criteri di ammissibilità. Il primo fattore da considerare è il reddito individuale. L'assegno di inclusione è destinato a coloro che hanno un reddito annuo inferiore a 9.360 euro, come definito dal limite massimo per l'ISEE. Questo significa che chi percepisce una pensione, o un reddito annuo superiore a questa soglia non è idoneo per il beneficio. Inoltre, è fondamentale considerare anche il reddito del nucleo familiare. Se il reddito complessivo del nucleo familiare supera i 6.000 euro all'anno, il diritto all'assegno viene meno. Questo importo viene poi adeguato in base al parametro di scala equivalente, un meccanismo che tiene conto della dimensione e della composizione del nucleo familiare. Per i pensionati, ci sono ulteriori considerazioni specifiche. Ad esempio, se la pensione mensile non supera i 462 euro per 13 mensilità, si rientra nei criteri di ammissibilità. Inoltre, esistono criteri particolari per i nuclei familiari in cui tutti i membri hanno compiuto 67 anni o in cui è presente una persona con disabilità grave. Un aspetto importante da sottolineare è la natura temporanea dell'assegno di inclusione. Questo sostegno non è solo un aiuto finanziario, ma prevede anche la partecipazione a iniziative di formazione, orientamento al lavoro o inserimento lavorativo. Chi non partecipa a queste attività rischia di perdere il diritto all'assegno, perché l'ente previdenziale potrebbe decidere di sospendere l'erogazione, in base alla mancata adesione a questi programmi. Inoltre, è essenziale mantenere aggiornate le informazioni personali e patrimoniali presso l'INPS. Qualsiasi variazione non comunicata, sia essa di natura personale o economica, può influenzare il diritto a ricevere l'assegno. In conclusione, l'assegno di inclusione si rivela una misura di sostegno significativa per i pensionati in difficoltà economica, ma richiede il rispetto di determinate condizioni e un impegno attivo da parte dei beneficiari. È uno strumento che mira a offrire non solo un supporto economico, ma anche un percorso verso una maggiore inclusione sociale e professionale. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti.